Ehi, tornate nel cantiere! Ehi, c'è Cata! Ehi, ci stanno facendo? Ehi, siamo arrivati a giovedì ora, va! Le ultime due anni c'eravate proprio! Ehi, è una sabbia che c'eravate, eh? Insomma! Ora abbiamo fatto la parete che stavamo fatta ieri, e poi ci stavamo fatta ieri, e poi ci stavamo fatta ieri, e poi ci stavamo fatta ieri, non c'è stato un costo ancora come ieri! Niente, questo non sta abbastato il rasante! Mi hanno fatto troppo liquido! Non riusciamo a farlo capire! Ma che è questo rasante abbastato così? Non fai troppo prego di rasante! Il pezzo di cesso fa troppo prego di rasante! È abbastato buono! No! No! Io sì, ho impastato buono un rasante! Sì! No! Quindi come? Ho impastato buono io! Il pezzo di cesso non lo capisce! Eh! Noi siamo la fondazione dinamica! Ahahahah! Ahahahah! Eh! Non ci sono fatti giovedì, ma ci vuoi! C'è il 7 ottobre! Eh! Ancora con questo bagno siamo! Buona rumina che ora ci fosiamo! E io! Però lunedì non lo facciamo lunedì! Perché lunedì lo facciamo neve! Ce l'abbiamo magari io! Allora ci fosciamo poi! Chiudiamo là! E poi cercando una gara! La parete della vacca! Certo la vacca! No! Ehi cerca! E tu che stai? C'è un manacomino a sto bagno! E poi c'è un manacomino a sto bagno! Non so se è una fondazione dinamica che sappiamo chi ducano a fare! Eh! No! Ma se tu porti una santa guardata! C'è un manacomino eh! E attenzione! E c'è stata ieri con la santa che non ha fatto qui! Una patana! E dice BOOM! Non è stata ieri con la resta qui! che è ragazzi che ho avuto! E' un cavallo! 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 va eeeh è sciomulito oh eeeh boh è bello che vanno a fare la testa a loro ah eh non c'è per tutto il cesso ce le fanno girate ora ci indirizzo io ci indirizzo che haciapagà da katana e tu e io io e io 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 sto metto sassanti passa a fare questa parete eh ora ci siamo ancora santo impastato buono questo è santo buono che è bianco non guarda la roba se c'è acqua il suo pulpo ma non c'è niente un po' di pulpo e non c'è niente non vedete che il pezzo di cesso vuole fare il danno per sera per sera vuole fare il danno non c'è niente di fare il danno per ora eh oh eh oh è che il senore è un prego è che il senore è un prego ahahahah è come da mezzo prego attenzione oggi non c'è da solo attenzione non ti fa male di noi che era così non c'è niente se non c'è male c'è da solo dopo eh sì il tuo ponte eh sì è che cosa stavo a fare è che prima si montavamo il ponte poi si montavamo un ciavota potremmo fare anche così potremmo fare in quella volta è meglio chiaro con il ponte perché poi ne monta il ponte no no ok è proprio fatto tutto usato tu mi lascio a reteci E' libero eh! E' libero! E' libero! Ancora siamo con la trazzatura Ancora siamo con la trazzatura Ancora con la trazzatura della parete O bagno E' libero! Basta allora, qua stai giù a sotto perché c'è E' stritto E non ci sono semplice E' andare a costruire E ora vi teniamo quest'altra Eh, entrò Io poi c'è un nuovo盒 Ancora E' per questa Noi troppo andiamo a mettere la manigola 3 noi ci puoi andare a smontare poi però ci montiamo di nuovo prima facciamo tutto sotto e poi c'è l'usufra e noi non c'è a sguardo ora a cazzo non ci arriviamo ora per poco a te lo vuoi non c'è l'usufra ora c'è l'usufra non c'è l'usufra ancora siamo nel cantiere non c'è l'usufra non c'è l'usufra non c'è l'usufra ancora c'è l'usufra ancora c'è l'usufra non c'è l'usufra non c'è l'usufra perciò c'è l'usufra non c'è l'usufra non c'è l'usufra io quando lunedì andiamo a fare tutta la parete è passato di varia non c'è l'usufra ma non c'è l'usufra non c'è l'usufra non c'è l'usufra non c'è l'usufra si ma parola dai uuf no come un gel così non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è l'usufra ma non c'è l'usufra non c'è l'usufra non c'è l'usufra non c'è l'usufra prima si faceva tutto qui sottra e poi qui sotto che era così da fare non c'è l'usufra e poi si faceva l'usufra quindi non c'è l'usufra non c'è l'usufra non c'è l'usufra non c'è l'usufra niente non c'è un base di lascatura No non c'è l'usufra non c'è giù non c'è un po' di farola come era prima proprio tutto sommato e io allora come c'è a giocare eh e io e io come c'è a giocare come c'è a giocare e io come c'è a giocare e io e io e qui no non si può giocare a questo il tuo ponteggio non può fare tanto il ponteggio non può andare in attimo e poi non c'è a giocare non c'è a giocare e poi c'è a giocare se lo facciamo se lo facciamo, facciamo il tetto e non c'è a giocare ma c'è a giocare ma c'è un tetto ma c'è un tetto ma c'è un tetto questo punto difficile io non è male no 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 non si fa così non riusciamo a farlo capire il suo cavallico non si può sguardo buon e io io andavo con una roba e poi si può fare se fosse a cantare non manca la sangue perché non è fatto un dono ancora quel lupo non c'è a scegliere con mani colino lo c'è a scegliere e non c'è a scegliere ma non c'è a scegliere ma qui da qui non mani colino e la carne non c'è ma non c'è e questo è un po' di acqua e questo è un po' di acqua e questo è bellissimo non c'è un po' più addosso, niente di difficile è un punto troppo difficile non c'è un po' più addosso, non c'è un po' più addosso è un po' più addosso, è un po' più addosso è un po' più addosso, non c'è un po' più addosso, non c'è un po' più addosso non c'è un po' più addosso, non c'è un po' più addosso non c'è un po' più addosso, non c'è un po' più addosso non posso fare il tetto, dovrebbe fare il tetto qui ma perché c'è il tubo non ci arriverà così la mani qua non basta ma ne vogliamo usare appara c'è un ruolo non vedete ma Nicolino come è combinato non ci vuole a dire ma non ne vuole ma che non è fatto però non riusciamo a farlo capire sei stupo non riusciamo a farlo capire non si può fare il diagonale che può essere? se c'è il cattellino non si può fare se non c'è il cattellino non si può togliere il diagonale e allora la carichista al cuore se l'hai visto il conto è caro non prendi le coglioni non prendi le coglioni si è unito a chassare questo punto io guarda e poi c'è il comandante ma che è il comandante? ha portato il conto ma tu stesso non c'è giro è un po' chiamato l'uomo non è rullo oh giù and stiamo qua non c'è un'altra cosa che vuole Sì. 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 Io faccio la vella lunga. Sì. Insomma, non è un po' perché. Non ci sia strigiamo l'occhia, di c'era un po' che. Che. il pontetto si è attrezzato un po' uno che sta a diagonale che è sciammata questa diagonale è svolta è l'uovo è l'uovo è l'uovo è l'uovo è l'uovo è l'uovo eeeh ma va bene andare a rio ahahah e sta a fare male eeeh 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 il ponteggio non è per niente parlo non ce la faremo non ce l'abbia passato non ce l'abbia passato non ce la bambina non ce la bambina un po' di gaso E' un po' di più. ma come sta rasando? si, non lo schifo mia c'è la venticola che sarebbe usata meglio anche è fracassi è vero se ci sarà anche usata meglio io non si può togliere, lo stesso si può lavorare se lo metto un po' di peggio da casa l'iamatore ha messo un po' per il peso allora non ci arriva non ci arriva, non ci arriva non ci arriva e che c'è la madre ah non ci arriva e che non ci vai la tappare allora forse ci arriva ancora momento ma non and tow me tanto non quello è andato sono degli riscarboli e ne dobbiamo già apparecchio ma questo non è cartello, è plastica aspetta, devo passare un pezzo di là eh, 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 mi vado un atto ma sono entrato a posto un catterino? ma non era sempre un cattello? no, era già stare a posto se no, se prendo un cavo cantero non fai la contrafunzione eh, un cavo cantero si dice lui, c'è una cosa senza cattello ah 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 eh, certo, un cattello ci vuole eh, c'è un manato, ok? un manato, un macello si, l'uncino si, l'uncino dimenticino non è il coso e' un po' di più e' un po' di più è un po' di più e' un po' di più nemmeno lui ha già salto non vuoi guarda che questa sta appareggiando e dove c'è il tubo non è questo che c'è il tubo e io voglio dire che Grazie. Alla prossima. 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 Alla. Alla prossima. 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 Poi. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. non lo so ne ho mai mettere il mattone se metterci il mattone come si fa? metterci il mattone lo detto non si sta facendo ancora lo detto non si sta facendo ancora lo detto come si è giusto? non si è giusto? no non si è giusto? non si è giusto? non si è giusto? no ti penso all'aiuto non si è giusto? non si è giusto? non si è giusto? ma che modo stiamo tagliando i muri? non si è giusto? non si è giusto? no non è questo problema? non c'è questo problema e io ci penso io qua sui frattoni io non ci è passato qua da un guru e poi il fiato funiere e questo è un grosso giusto ma io ci vai gustare è un grosso giusto se ne ha lasciato se ne ha lasciato un grosso giusto ma è un grosso giusto non ci si si dovrà io ci bolla è qualcosa ma un botone qua Ehi, sta subendo? la capa Ora lo toccato a parar di armi. voglio lavorarci ancora qua porca miseria a cosa mi piace? io ci piace giù ci piace la senta no come ha poi Oh, capo, panna, non c'è la patta. Non c'è la farà. C'òbonté. Non c'è la farà. grazie ma il tuo caso è appare adesso parlo ce l'abbiamo fatta c'è un po' il pezzo di lati c'è quasi rosario ragazzi ancora siamo una merda ancora siamo davvero una merda la puoi chiedere 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 il giugno che è disposto ! as arrive il moro v Fachetti attraverso Siete. io non lo so 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 muoviamoci non lo so non li kール non lo so non lo so non lo so da lì c'è il ruolo che ti ha lasciato un po' che ti serve? La maripola? La maripola con la maripola Dica è un gusto certo ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ora se non si affraga assai no si affraga assai no no ora se non si affraga assai no 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 la figuratura ci sono ancora perché noi facciamo la fondazione dinamica è vero? facciamo la fondazione dinamica non è così noi andiamo tra poco per la seconda parte perché già il pastore ci sono 25 minuti accidenti come vuole il tempo noi facciamo un'auce e tutto tra poco per la seconda parte eh certo tra poco noi continuiamo fase di rasatura bagno tra poco per la seconda parte eh inzaccata eh mi hai fatto una cosa la faccio no io hai fatto una cosa che ci ho fatto un po' sciammato stai fracassato bisogna fondazione dinamica eh tu sei una fondazione dinamica eh 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 a tra poco per il secondo tempo sembra che la batteria già basta già c'è una lineetta ma porca puttana tre lineette sono rimaste vabbè va a tra poco a 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